C'è un precedente che induce all'ottimismo in vista della sfida che il Cesena sosterrà domenica sera contro il Perugia. Nel match di andata, infatti, la squadra di Fabrizio Castori stava navigando in acque tutt'altro che serene, eppure seppe prodursi in una prestazione di grande impatto, che culminò con un netto 3-0 al Curi, che causò l'esonero di Giunti, sostituito proprio da Breda. Lì abbiamo fatto una grande vittoria, loro erano in un momento di difficoltà, e noi ne abbiamo approfittato per uscire di indenni dal Curi, e poi la prestazione è stata ottima, quindi penso che i tre punti erano stati meritati. Tutt'altro sprint ha adesso il grifone che nel girone di ritorno viaggia a ritmi da record, con qualcosa come sette vittorie ottenute sulle dieci partite sin qui disputate. Sappiamo che il Perugia è la squadra che è più in forma del campionato in questo momento, quindi sappiamo di affrontare una buona squadra, e dobbiamo cercare di tenere alta l'intensità per tutta la partita, di essere aggressivi, e dobbiamo cercare di metterli in difficoltà sin dall'inizio. Sappiamo che loro giocano con un modulo che magari ci crea qualche difficoltà, però dobbiamo fare la partita perfetta perché non possiamo sbagliare nulla.